Cari amici bianconeri, ciao da Simone Absim. Che settimana infuocata, la Juve raggiunge la finale di Champions, raggiunge la finale scudetto ancora da giocarsi contro la Roma, la finale di Coppa Italia è anticipata al 17 maggio subito dopo contro la Lazio, Antonio Conte vince la Premier League e la panchina dell'Inter resta scoperto dopo l'esonero di Stefano Pioni proprio mentre la Juventus conquistava la finale di Champions League battendo il Monaco in casa. È stata una settimana importante, ma vediamo che cosa può nascere da questi elementi che vi ho detto e quali sono le possibili notizie di mercato di cui tra l'altro si sta parlando molto. E si sta parlando molto infatti di Antonio Conte, io da Juventino gli faccio sicuramente i complimenti per la vittoria della Premier League, non era facile, il Chelsea non era la squadra principale indiziata di vincere quest'anno, lo era forse il Manchester United, il Manchester United di Paul Pogba che saluto e colgo anche l'occasione per chiedere a Paul Pogba come ci si sente a non vincere il campionato. Esperienza per lui inedita da quando è un calciatore professionista, ma insomma c'è sempre una prima volta. D'altra parte ha fatto una scelta esclusivamente indirizzata ai soldi e quindi deve anche poi prendersi le conseguenze di questa scelta, ma lasciamo perdere Paul Pogba che non merita diciamo tutta questa attenzione. Tornando ad Antonio Conte, ripeto gli faccio i complimenti e fa anche piacere da Juventino che un pezzo di juventinità nel mondo continui a vincere, così come fa piacere che abbia vinto il campionato Massimo Carrera. In generale questo vale per tutti, per tutti quelli che fanno parte o hanno fatto parte della famiglia Juventus perché far parte della Juventus significa avere innanzitutto un'identità juventina bianconera e Antonio Conte sicuramente ce l'ha. Io onestamente non sono in questo momento un fan di Antonio Conte, nel senso che non lo seguo, nel senso che non mi fa emozioni particolari vederlo allenare e sapere che cosa fa o non fa la sua squadra, però ripeto sono contento per lui perché ha vinto la Premiera e poi anche per un discorso di italianità. Adesso tutti stanno salendo sul carro di Antonio Conte e dell'italianità, dimenticandosi tutte le cose che avevano detto contro Antonio Conte quando allenava la Juventus, tutta l'avversione che c'era stata nei confronti di Antonio Conte. Invece adesso gli fanno tutti i complimenti, ma vabbè insomma meglio tardi che mai. Però, però, la verità è che Antonio Conte lascerà il Chelsea alla fine di questa stagione. Questi sono i rumors che serpeggiano e io onestamente li ritengo fondati. Antonio Conte se ne va dal Chelsea. Finisce quindi questa esperienza, finisce in maniera trionfale, perché comunque il Chelsea torna anche ovviamente alla grande per la porta principale in Champions League. Però, dove andrà a questo punto Antonio Conte? Ebbene, Antonio Conte molto probabilmente, per quello che sono le mie convinzioni, ma per quello che si dice, onestamente si scrive, in questi giorni molto, Antonio Conte andrà ad allenare l'Inter. Antonio Conte sarà il nuovo allenatore dell'Inter. Ebbene, sì, con buona pace delle vedove di Antonio Conte, degli Juventini che lo rimpiangono, ce lo ritroveremo avversario da battere, sicuramente avversario da battere, perché Antonio Conte è da temere sempre, appunto per la sua bravura, anche se non è da temere sempre l'Inter, soprattutto l'Inter degli ultimi anni, però ce lo troveremo come avversario. Noi Juventus ce lo troveremo come avversario. Potrebbe anche essere un avversario importante sulla strada verso lo Scudetto, che deve essere sempre la priorità per la Juventus, ogni anno. E quindi, insomma, la notizia potrebbe essere una notizia bomba, da un lato fa anche un po' ridere, perché, insomma, pensare a Antonio Conte, che è fuggiasco dalla Juventus, poi accolto, tra virgolette, come CT della Nazionale, anche da quelli che lo avevano asperamente criticato e contestato quando era juventino, poi va a fare questa esperienza internazionale, che sicuramente è stata un'ottima scelta anche per il suo palmaresse, per il suo curriculum. E poi, però, che cosa fa? Torna in Italia, ma va all'Inter. Insomma, se dovesse essere confermata, se si dovesse verificare questa ipotesi, questa notizia, insomma, ci sarebbe veramente da discuterne. Intanto l'Inter, stiamo vedendo tutti che è una società allo sbando, esonerato Stefano Pioli, che non aveva nessuna colpa, probabilmente, anche se comunque ritengo che non sia l'allenatore, un allenatore da zona Champions, per intenderci, ma sicuramente ha fatto molto meglio alla Lazio e persino al Bologna, di quanto non abbia fatto all'Inter. Ma il problema non è l'allenatore, il problema è l'Inter. È una società fondamentalmente ridicola, esonera due allenatori nell'arco di una stagione in cui doveva esplodere, rinascere, conquistare il mondo, visti anche i tantissimi milioni spesi per giocatori di cui adesso non abbiamo nessuna notizia, soprattutto Gabriel Barbosa, che mi rifiuto di chiamare Gabby Goal, perché, insomma, è tutto forché un gol. Eppure adesso l'Inter prova a rilanciare, forse facendosi sempre forza di quei milioni, che sicuramente ha la potenza di Suning, alla quale dobbiamo inghinarci come se fossimo sudditi di un imperatore. Ma, insomma, sappiamo che nel calcio i soldi non sono tutto, così come nella vita non fanno la felicità. Però staremo a vedere se la notizia dovesse essere confermata, se ci ritroveremo Antonio Conte e allenatore dell'Inter la prossima stagione, ne vedremo delle belle. Intanto, insomma, questa era la notizia di calciomercato, che in queste ore sta tenendo banco. Teniamo gli occhi aperti, insomma, vediamo che cosa succederà, ma intanto pensiamo al calcio giocato, pensiamo alla nostra Juventus, perché veramente saranno giorni e settimane di fuoco e forse di gloria. Andiamo a giocarci una finale di Champions a Cardiff il 3 giugno, abbiamo la finale di Coppa Italia il 17 maggio a Roma e sempre a Roma. Domani, domani, perché oggi è 13 maggio, domani 14, andiamo a Roma per cercare di conquistare almeno quel punto che ci consente di vincere lo scudetto, anche se in realtà la mia speranza, la speranza di tutto il popolo bianconero, è quello di battere la Roma per alzargli lo scudetto in faccia in casa loro. Vi saluto, vi ricordo di iscrivervi al mio canale YouTube, lasciatemi i vostri commenti, mi potete seguire su Twitter Simone Absim e cliccate mi piace alla mia pagina Facebook Simone Absim Juve. Ci sentiamo presto. Sempre forza Juve! !